Nel cortile di scuola ogni giorno succede qualcosa. Oggi nell'orto abbiamo visto tre pomodori nuovi e una lucertola che prendeva il sole. E poi c'è un albero gigante. E la maestra ci fa sedere all'ombra e ci legge le storie. Nella mia scuola è forte andarci. Portiamo nelle scuole il verde che non c'è. Dona al 45 585. Grazie.